Peggy 7 Il segreto per vincere ogni gara è essere super carico Per questo motivo ho chiesto aiuto al mio amico Lava Lancia Rerupto Prima di tutto ci vuole una moto con un certo carattere Devi fare una grande partenza puntando alla prima posizione fin dall'inizio Ogni pilota sa quanto è importante interpretare bene la competenza Bisogna essere coraggiosi e sfidare gli avversari anche testa a testa Questo rio di lava è imparabile Attaccare sempre in ogni parte del circuito Ed è fondamentale avere una grande squadra intorno a te Excelente! Grazie! 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 Grazie!